Cari spettatori di Gossip News Ita, oggi vi portiamo la scoop più caliente del momento, la nuova fiamma di Michel Hunziker e il suo affascinante imprenditore italiano. Le foto esclusive della coppia hanno scatenato il gossip e gli spettatori non vedono l'ora di scoprire tutti i dettagli di questa romantica storia d'amore che ha catturato l'attenzione di tutti. Dopo la fine del matrimonio con Tommaso Trussardi, sembrava che Michel stesse cercando un po' di tranquillità, ma ora sembra aver trovato un nuovo amore che le ha fatto brillare gli occhi. La complicità e l'affetto tra i due sono evidenti, e sembrano essere destinati a vivere momenti indimenticabili insieme. Vi invitiamo a rimanere connessi a Gossip e News Ita per non perdere nemmeno un dettaglio su questa bollente coppia. Vi chiediamo di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e commentare con le vostre opinioni e speculazioni sulla storia d'amore di Michel. Grazie per il vostro sostegno e continuo interesse, e non dimenticate di condividere il video con gli amici appassionati di Gossip e Notizie. Ci vediamo alla prossima puntata, sempre su Gossip e News Ita.